Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Tottenham Juventus, partita che si giocherà domani a Wembley Stadium Allora, allo Juventus Stadium stiamo vincendo 2-0 E poi abbiamo fatto segnare due gol al Tottenham Quindi domani sera mi aspetto che la Juventus qualche gol lo fa Ma si chiuderà in difesa perché il Tottenham quando giochi in casa ed è forte Fa paura il Tottenham Quindi non lo so quanto può finire Spero un pareggio per la Juventus, non lo so Comunque penso che finisca... non lo so che cosa per dire 2-1 Juve, 2-1 Prendo che si indica prima il Tottenham, poi di Bala e Iguain Comunque scrivete qui giù nei commenti le vostre petizioni Sarà una partita difficilissima Specialmente perché si gioca a Wembley Quindi io vorrei che la Juve passasse sul turno difficile col Tottenham Però non si può far sapere che può succedere perché nel calcio può succedere tutto Speriamo che andiamo là a vincere Non facciamo figura del calcio perché se la facciamo siamo fuori dalla Champions No Europa League Vorrei tanto che passassimo perché mi farebbe molto piacere Comunque dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti a giocatori come Kane, Eriksen, Son, Ali Tutti questi giocatori qua che sono un pericolo nella nostra area di rigore Kane è quello che dobbiamo stare più attenti a Perché ha segnato il gol contro di noi Il 2-1 che Buffon potrà evitare La formazione della Juve ha giocato malissimo contro il Lazio Però abbiamo vinto 1-0 Voglio vedere una partita così Che ci guardiamo in difesa e segniamo Ma secondo me sarà difficilissima sta partita Veramente Spero che vinciamo sta partita Perché se non vinciamo siamo fuori dalla Champions Vorrei vedere una vittoria e secondo me la prenderemo Comunque scrivete nei commenti qua giù le vostre petizioni Speriamo che vinciamo 2-1 Il video si conquista qui Grazie per il mio guardato Forza Juve Andiamo a vincere a Wembley E cercare di passare il suo turno